Gli anni 80 vanno di moda in borsa. All'esordio a Piazza Fari, i titoli Moncler sono schizzati oltre i 14 euro, 40% in più del prezzo iniziale, in quella che è diventata la maggior quotazione italiana dal lontano 2010. Con una domanda pari a 27 volte l'offerta, lo storico marchio di piumini resi famosi dai paninari raggiunge così una capitalizzazione di oltre 3 miliardi e mezzo di euro per la gioia dei proprietari, i fondi di private equity Euraseo e Carlyle, che hanno incassato oltre 680 milioni di euro. Un successo personale anche per Remo Ruffini, l'uomo che ha riportato in vita il marchio finito in bancarotta dieci anni fa.